In questo video voglio mostrare un'operazione che si è aperta ieri mattina, che era giovedì, e si è chiusa direttamente nel tardo pomeriggio a Target. Quindi un'operazione super rapida, però che ha permesso di fare veramente un ottimo gain, soprattutto rispetto al rischio preso e soprattutto nell'ottica di una fascia temporale veramente, veramente molto bassa, perché il prezzo è esploso. Allora, andiamo a vedere che cosa ho fatto. Il cambio è sterlina dollaro, su cui nella mia analisi settimanale avevo una view long-short, quindi ero aperto a operazioni sia long che short nel mio time frame operativo daily, principalmente durante le giornate successive, e come sempre vado a ricercare un setup di qualità durante appunto la settimana. Che cosa è successo? Guardiamo un po'. Allora, questa qui è la candela domenica-lunedì, quindi questa è la candela lunedì, una inside, e poi martedì c'è stato questo movimento verso l'alto, ripreso verso il basso, che però non ha mai violato i minimi. I minimi erano un livello importante, questo 24,81,25, è un livello molto importante, su cui ovviamente avevo deciso di entrare a mercato short, solo nel caso ci fosse stato un movimento ribassista al di sotto di questi 24,80. Però un movimento ribassista sotto 24,80 in chiusura daily, quindi avremmo dovuto avere un movimento verso il basso, concluso così, con una barra nera al ribasso, e poi nei giorni successivi avrei magari cercato su un 6-4 ore l'operazione short. Così non è stato, siccome avevo appunto una view long-short su questo mercato, come detto poc'anzi appunto all'inizio del video, e cosa è successo? Guardando e aspettando l'end of day, quindi lavorando sulle chiusure giornaliere, e quindi avendo la pazienza necessaria per fare un'operazione di qualità, il mercato ha fatto una discesa, è arrivato a 1,25 per poi creare una tail bar doppio minimo higher close, quindi uno dei miei setup operativi che era in linea con la struttura e il mio piano soprattutto settimanale. Se andiamo a prendere questo minimo, che era il minimo più importante, il minimo più basso del movimento di ritracciamento di questa fase long, di questa gamba long, vediamo che il minimo è a 1,25,025. In questo caso, guardiamo qui, il minimo è a 1,25,004, quindi due pips circa di differenza tra questo minimo, eccolo qua, e questo minimo, eccolo qua. Quindi c'è stata, diciamo, una falsa rottura di minimi, tenuta del pivo mensile anche livello chiave, e quindi setup super interessante. La mattina, quindi ieri mattina, eravamo praticamente, aveva già rotto, questo è un 6 ore, aveva già rotto al rialzo ed eravamo più o meno in area 1,26 e 22, su cui io ho deciso di entrare, anche perché il 6 ore aveva confermato con un bel doppio minimo a year close, e quindi sono entrato long a 26,22, postando uno stop sotto i 24,5, quindi praticamente il livello di stop era più o meno questo. Su questo trade ho rischiato esattamente, quindi sono entrato più o meno qui, e il livello di stop era più o meno qui. Su questo ho rischiato 500 euro, su questo conto che adesso vi mostro, che poi è un'operazione che ho condiviso con tutti gli utenti abbonati al Mentorship Platinum, che è un servizio di condivisione operatività, di didattica, molto molto efficace, dove all'interno ci sono trading room giornaliere, ci sono chart of the day, quindi analisi di fine giornata, ci sono le analisi di fine settimana con il piano operativo, c'è un'area riservata, c'è un gruppo Facebook, un canale Telegram, c'è un po' di roba, è un servizio che va avanti ormai da oltre 6-7 anni, e che ci permette di essere sempre connessi, diciamo, con la nostra community di Price Action Trader, comunque chi vuole imparare questo tipo di approccio e di metodo operativo. Quindi ho condiviso questa operazione appunto sul Telegram del Platinum, e il mercato ha mosso totalmente rialzista, andando a target. Dove avevo inserito il target? Allora io ovviamente vedo che ci sono due livelli importanti, questo livello di massimo e questo qui che era quello precedente, quindi questi due erano i due livelli più importanti. Vado a, come sempre, inserire le estensioni di volatilità su questo trigger, che è stato il mio trigger operativo, io da ormai anni chiamo i segnali di trading, i pattern, li chiamo trigger, e fa piacere anche che molti oggi chiamano trigger i loro pattern, voglio dire che insomma che qualcosina arriva, no? Trigger perché è il grilletto da premere, è l'ultima situazione che ci conferma l'entrata, quindi questo è il trigger, e guardate un po', io avevo inserito un ordine a 1,20 di take profit a 1,2784, quindi praticamente un pip sotto il 211,80% di estensione della volatilità del trigger, con molta attenzione al livello 161,8, che era praticamente i massimi precedenti. Guardate qua, confluenza con i massimi precedenti, anche questa, e confluenza con il livello 1,28, appena sotto, 1,2785. Quindi a 1,2784 poi ho inserito il mio target di profitto. Faccio vedere l'estratto dell'operazione, questa è l'operazione sconto reale, questo è il conto che condivido con il platinum, con i platinati, e come si può notare si era creata una bellissima operazione, 2,622,3 comprata, 2,784 rivenduta, 415 euro di profitto, in 18,29 è uscita. Quindi in una giornata, sì, circa, insomma, io ho aperto l'operazione più o meno intorno alle 9 della mattina, un po' prima forse delle 9 della mattina, con 2,84 mini lotti, quindi 28.400 dollari di controvalore. Operazione quindi andata a buon fine, molto 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 interessante, e la cosa, insomma, è stata veramente molto buona. È ovvio che, io adesso vi mostro questa, ci sono anche operazioni che vanno gestite, vanno chiuse con una perdita, ma io con una piccola perdita soprattutto, non ci sono solo operazioni di questo tipo. però la cosa che voglio dirvi è che io qui ho aspettato la qualità. Nel mese di dicembre ho fatto due trade, nel mese di novembre ho fatto tre trade o quattro trade, cioè cerchiamo la qualità. Cercando la qualità è molto più facile riuscire a trovare, quindi si riesce già a, come dire, filtrare moltissimo, e quindi la base per una buona gestione del rischio è appunto la qualità operativa. E la qualità operativa qui c'era, però per avere qualità operativa bisogna essere pazienti, e la pazienza arriva quando si aspetta il setup ideale, e questo era un setup di altissima qualità, un setup ideale che ovviamente ho comprato. Tra l'altro questa operazione l'ho fatta anche sul conto. Turbo, su un altro conto CFD, quindi l'ho fatta su tre conti, e quindi mi ha generato veramente un ottimo profitto. Detto questo, prima di salutarvi, volevo ricordarvi che se volete imparare l'approccio, il metodo, il giusto modo di fare trading serio e professionale, come lo facciamo noi di Airforex, vi ricordo che avete la possibilità di partecipare all'evento di Bologna, il 26 e il 27 gennaio, tra l'altro in questo momento oggi è il 15 di dicembre, e proprio entro oggi, quindi fino alla mezzanotte di oggi, potrete acquistare l'evento a un prezzo scontato, perché Trading come azienda, che è ovviamente il nostro corso, che non facciamo da, penso almeno dal 2018, un corso al vivo di questo tipo, una a due giorni, fino a oggi, a mezzanotte, avete la possibilità di acquistarlo con 100 euro in meno, ovviamente questi 420 euro hanno una specifica, che danno accesso a tutto il corso di due giorni, quindi a tutto il materiale del corso, tutto il valore che diamo durante il corso, ma anche al pernottamento in hotel, al pranzo e cena del venerdì e alla colazione e al pranzo del sabato, quindi potete ben capire che stiamo parlando veramente di una cifra incredibile, poi non è che non si può acquistare, si può acquistare però andrà a 520, quindi se volete avete l'ultima euro per acquistarlo in sconto, se no potete acquistarlo poi successivamente. I temi sono quelli che vedete qui e sono praticamente, diciamo, tutta quella che è da oltre 15 anni a questa parte, la mia storia da trader, con tutti gli inserimenti anche di Antonio Nilsi, che ormai conoscete, con quindi inserimenti legati al mindset, ai processi decisionali, e tutto quello che riguarda anche la parte di gestione di noi stessi per fare un ottimo trading, non un buon trading, un ottimo trading, un trading di qualità. Quindi, ecco, mi sembrava giusto anche darvi questo spunto. Io vi ho raccontato la mia operazione, ogni tanto lo farò, l'ho già fatto in passato, mi piaceva comunque spiegarvi, anche voi questo è stato un trade molto rapido, non succede sempre un movimento di questo tipo. In realtà, un mese fa ho fatto l'euro-dollaro, se vi ricordate, questa operazione long, come anche Damiano, tra l'altro che avete visto qua, l'abbiamo fatta anche sul Platinum, quindi operazioni comunque che rapidamente danno un mega profitto, ci possono essere, questa ci ha messo 3-4 giorni, quella di Sterlina è partita praticamente subito. Bene, anche per oggi è tutto, io ovviamente come sempre vi chiedo di lasciare un mi piace, di iscrivervi a questo canale, e di attivare la campanella. Ci vediamo ovviamente al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao!